Sono Gianfranco De Angelis, responsabile commerciale nonché socio dell'Splus One Tour e siamo qui alla BMT di Napoli, direi anche piuttosto soddisfatti dell'andamento del venerdì e oggi sabato è una giornata piena di lavoro e piena di affluenza. Questo ci rincuora dopo l'anno passato di quest'anno, dove il turismo soffriva un pochino, ma a questo punto sentiamo a pelle una certa ripresa sul lavoro. Le nostre novità per l'estate, le accenno brevemente, sono i prodotti estivi della Suantour, quindi la Grecia, la Turchia, la Spagna con i nostri club a Minorca e la Grecia con il Pegasus e altri club, ne cito alcuni soltanto. Un'altra novità saliente sta per partire in questi giorni una convention in joint venture con la Blue Panorama, nostro partner sul volato, charterizzato, a El Alamein e a Marsa Matru, una convention che coinvolge i più importanti agenti di viaggio del centro-sud, ne faremo anche un'altra per Marsa Matru dal nord, chiaramente dividiamo per questioni logistiche il gruppo, è un gruppo ben fornito, c'è una delle agenzie più importanti del centro-sud, su El Alamein, il Gazala Village che è il nuovo villaggio della Suantour a El Alamein. Questo, l'Arsa Matru e l'Alamein sono definiti oggi le novità, i Caraibi del Mediterraneo. E queste sono le nostre novità. Tra i miei mani c'è un book fotografico che abbiamo preparato come novità per la BMT per gli agenti di viaggio, da consultare per gli agenti di viaggio. Dopo il successo di dieci anni fa che abbiamo fatto un book di questo genere, uno strumento di vendita molto utile, invito tutti i presenti a venire a ritirare il nostro stand. Altro non vi devo dire, un bocca al lupo a tutti per la stagione del 2013. Grazie a tutti.